Oggi parliamo dell'attributo. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano che amano la grammatica. Come va? Come stai? Spero tutto bene? Se vuoi leggere la trascrizione di questo episodio puoi diventare un mio Patreon oppure puoi farmi una donazione sul mio account Paypal. Continuiamo la nostra super fantastica, meravigliosa, bellissima serie sull'analisi logica. Gli aggettivi superlativi non sono sufficienti a descrivere questi episodi. Ti ricordo che l'analisi logica analizza le relazioni sintattiche, le relazioni logiche tra le parole di una frase. Se vuoi puoi ascoltare l'episodio numero 279 in cui approfondisco la differenza tra analisi logica e analisi grammaticale. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato dei complementi indiretti. Il complemento di causa, il complemento di modo, il complemento di quantità. Parti delle frasi che ci danno delle ulteriori informazioni che specificano, che indicano qualcosa in più. Se dico Andrea mangia o se dico Andrea mangia la pizza con Mario il contenuto informativo delle due frasi cambia. La seconda frase è più ricca di informazioni e di contenuti. Oggi vediamo un altro concetto della grammatica tradizionale. Un concetto che puoi trovare nei libri di grammatica di italiano e che si chiama attributo. Come puoi immaginare, l'attributo è un elemento, una parola o un insieme di parole che qualifica, che specifica, che determina un nome. Solo un nome, non un verbo, non un aggettivo, un nome. Questa è la caratteristica dell'attributo. Per questo l'attributo concorda con il nome. Questa è la differenza fondamentale tra attributo e complemento. E io lo so, lo so, lo so. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, tu stai pensando, ma Andrea, è un aggettivo. Perché dobbiamo complicare le cose? Hai ragione, però l'aggettivo è un tipo di attributo. Ti faccio qualche esempio. Andrea è bello. Andrea è intelligente. Facile, no? Bello e intelligente sono due aggettivi che concordano con Andrea. Nome, maschile e singolare. Andrea è una persona di qualità. Andrea è un cantante di valore. Di qualità e di valore non sono aggettivi, ma specificano che tipo di persona sono, che tipo di cantante sono, e quindi sono degli attributi. La pizza che ho mangiato era buona. L'episodio che ho ascoltato era interessante. Che ho mangiato. Che ho ascoltato non sono aggettivi, ma specificano quale pizza era buona e quale episodio era interessante. Voglio precisare, voglio determinare quale pizza era buona. E per questo dico la pizza che ho mangiato. Un attributo. Quindi, ricapitoliamo. Cos'è un attributo? Un attributo è una parola o un insieme di parole che specifica, che qualifica, che determina un nome. Il nome può essere un soggetto o può essere un oggetto. La pizza che ho mangiato è un oggetto. L'aggettivo è un tipo di attributo, ma anche gli avverbi, anche i participi, possono essere degli attributi. La musica è iniziata, l'episodio è terminato. Io vado a mangiare un gelato e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao! Ciao!